presentato il progetto del nuovo cinema astra di trento che troverà spazio nella sala della cooperazione in via segantini 534 posti a sedere e un piccolo cartellone di proiezioni già in programma il cinema astra torna a vivere in un luogo che ha deciso di aprirsi sempre di più alla comunità dopo le vaccinazioni alla sala della cooperazione arrivano anche i film potersi incontrare avere delle relazioni importanti un luogo di pensiero di cultura siamo convinti che ridare nuova linfa nuovo slancio una nuova prospettiva futura cinema astra faccia un po parte di questi progetti che nascono nel mondo della cooperazione ma sono rivolti noi non alle nostre associate ma un po tutta la comunità trentina nuovo astra è il nome scelto per il progetto come segno di continuità all'interno di una nuova società che nascerà nei prossimi giorni con la veste di impresa sociale la famiglia artuso dopo aver venduto l'immobile di corso buonarrotti al posto del quale sorgerà un complesso di appartamenti ha trovato una nuova casa la nuova società intende cercare di portare avanti il lavoro sviluppato in questi anni dal cinema astra e possibilmente di potenziarlo sia nei contenuti che nella presenza al di fuori della città di trento per l'apertura una programmazione speciale dal 13 al 17 dicembre partiamo con tre proiezioni test praticamente anche per così collegarsi alle varie cooperative che collaborano nel progetto quindi ci saranno tre film il 13 si sarà un film di animazione sull'afghanistan che si chiama breadwinner il 15 avremo un film un vecchio ma interessante sul mondo del lavoro che è quello di ken loach sorry we miss you e il mi pare il 17 dovrebbe esserci questo incontro molto importante con rumitz a cui legheremo un film sulla bosnia un progetto voluto e sostenuto da cooperazione trentina consolida manda caru cla risto 3 site fondazione dei marchi edizioni ericsson e libreria arcadia a questi partner si uniranno a breve altre realtà del territorio